demo green novegro con guglielmo besutti area manager di nova guglielmo che 2022 è stato quello che sta più o meno finendo beh è stato un anno molto anomalo abbiamo riscontrato comunque nelle varie fiere nelle varie nei vari porti aperte nei vari open day sempre dei buoni di buoni riscontri dei clienti è stato un anno strano questa pandemia questa crisi comunque mondiale che c'è stata ha scosso bene il mercato comunque sicuramente chiuderemo un buon anno speriamo solo che il 2023 sia altrettanto buono o addirittura migliore quanto il 2023 è un'incognita quanto era normale pensare normale pensare che sia un incognita un incognita al cento per cento ho viste le prossime elezioni le guerre in corso la nostra vicina russa e ucraina diciamo che è un'incognita difficile da scoprire speriamo nei prossimi mesi di avere qualche stabilità in più è cambiato il vostro mercato ad est e come è cambiato con con la guerra fra ucraina e russa ma diciamo che noi ad est siamo sempre appoggiati ad altri rivenditori non abbiamo mai affrontato il mercato direttamente quindi abbiamo risentito poco della verità un motivo per essere fiduciosi c'è sì c'è sicuramente motivo per essere fiduciosi c'è sicuramente torneremo a lavorare tranquillamente avendo consegne normali insomma l'importanza della 4.0 la 4.0 in italia è stata fondamentale nel 2021 nel 2022 speriamo che il prossimo governo decida di comunque di espanderla 2023 perché è fondamentale per l'acquisto di mezzi in italia